questo è un paese qualsiasi di una qualsiasi regione d'italia chiesa case stradette piazza municipio questo è il paese dei cinque pasti non vi affannate a pensare a colazioni pranzi e cene i pasti sono i componenti di una strana famiglia e i loro nomi in ordine di anzianità sono giuseppe cesaretto michelino alfonso e piero nel paese oltre a quello che vi abbiamo mostrato c'è poco da vedere ma i cinque fratelli pasti vale la pena di conoscerli specialmente adesso che cinque telegrammi giunti dal sud africa li metteranno in agitazione e ce li mostreranno con i loro difetti e con le loro virtù più difetti che virtù ma col tempo chissà che non migliorino quaresima il postino si avvia a consegnare il primo telegramma la storia dei cinque pasti è incominciata